più assistenza e prevenzione per i bambini occorre istituire dei posti letto di terapia intensiva pediatrica a salerno a chiederlo attraverso una petizione l'associazione andare avanti che ha avviato una raccolta di firme per sensibilizzare i vertici della regione campania e la politica tutta la salute dei bambini è una priorità l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo rende necessario indirizzare gli sforzi e le risorse verso investimenti capaci di garantire più salute soprattutto per le fasce in età pediatrica è opportuno dove quando possibile immaginare ed investire sottolinea gaetano amatruda in strutture che possano assicurare più servizi e prestazione ai cittadini e garantire benefici anche in futuro con questo spirito i componenti dell'associazione hanno chiesto nell'ottica assolutamente costruttiva un parere al dottore basilio malammisura già direttore dell'unità operativa di pediatria e centro di riferimento regionale per la celiachia azienda ospedaleria universitaria di salerno al polo di cava dei tirreni il contributo del dottore malammisura da tutti riconosciuto come un'eccellenza rilancia amatruda qualifica l'iniziativa che non ha carattere politico e che ha l'ambizione di avviare una riflessione è una battaglia di civiltà che dovrà unire non dividere ha sottolineato l'avvocato fabio mammone spiegando i motivi della petizione la diffusione pandemica del coronavirus ha palisato tutti i limiti organizzativi del sistema sanitario nazionale e dei sistemi sanitari regionali e indubbio che le politiche di investimento in campo sanitario negli ultimi anni siano state tutt'altro che virtuose e soprattutto poco attente alle esigenze dei territori ed in vero l'associazione andare avanti ha verificato che attualmente in provincia di salerno non sono attivi posti in terapia intensiva o subintensiva destinati a malati in età pediatrica ed allora in seno all'associazione si è pensato di attivare immediatamente una pubblica sottoscrizione affinché la regione campania venga sollecitata ad investire per porre rimedio a questa gravissima mancanza. È impensabile in una situazione emergenziale qual è quella che stiamo vivendo essere costretti a dover trasferire giovani pazienti presso le strutture ospedaliere napoletane ed in vero nella regione nella provincia di salerno risulta attivo un unico posto in terapia intensiva destinato a malati in età pediatrica presso la struttura ospedaliera di battipaglia ed allora io invito ciascuno di voi a accogliere questo nostro invito a sostenere l'iniziativa dell'associazione andare avanti e a far propria questa pubblica sottoscrizione affinché la regione campania possa essere indirizzata ad investire dove in questo momento è realmente necessario.